La procura di Arezzo ha presentato appello rispetto alla sentenza di assoluzione del 48enne che con il suo SUV invase la corsia opposta e uccise Elenia Rapini, giovane volontaria dell'EMPA di 29 anni, era il 6 novembre del 2019 e l'incidente avvenne lungo la strada di Ristradella nel comune di Arezzo. Secondo la sentenza di primo grado pronunciata lo scorso 11 gennaio la responsabilità dell'invasione di corsia non può essere ascritta al 48enne perché da lui non voluta né derivante da imprudenza o negligenza. Così il GUP aveva accolto la tesi della difesa dell'uomo, il 48enne sarebbe stato affetto da sindrome di apnee notturne o struttive del sonno che non sapeva di avere prima della tragedia. Condizione attestata sia con una perizia di parte dal professore Pasquale Macri sia con una relazione del perito scelto dal tribunale stesso per Guido Ciabatti. I familiari di Legna invece difesi dall'avvocato Francesco Valli hanno sempre sostenuto che non sarebbero state analizzate le considerazioni emerse in una consulenza di parte curata dal professore Luciano Tommaso Todisco. Stando a quanto affermato dal medico al momento della guida l'uomo sarebbe stato sotto l'effetto di un sonnifero passaggio, questo ricordato anche dallo stesso procuratore nell'appello dove si precisa che durante il ricovero in ospedale nel sangue del 48enne era stata trovata traccia di questo sonnifero in concentrazioni considerate terapeutiche. La procura ha quindi chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per verificare eventualmente attraverso una perizia l'impatto dell'assunzione del farmaco sulle condizioni di guida del 48enne.